E' una tragedia che colpisce l'intera comunità, afferma con dolore il sindaco di Canolo Rosario La Rosa, Tiziana Tozzo originaria del piccolo centro della Locride, con poco più di 600 abitanti e vittima della tragica morte avvenuta la sera del 6 gennaio. L'incidente ha coinvolto l'auto su cui viaggiava con un amico, Morgan Algeri, precipitata nel lago di Como. Le prime ricostruzioni indicano che i due erano a bordo di un SUV che, per causa ancora in corso di accertamento, ha deviato sul marciapiede e demolito una panchina in pietra, sfondato la ringhiera e finito nel lago inabbissandosi. I corpi dei due sono stati recuperati dai sommozzatori del nucleo di Torino dei Vigi del Fuoco e nelle ultime ore è stato possibile recuperare anche l'auto. I soccorsi sono stati allertati da un testimone che ha visto l'autovettura finire nel lago. Morgan Algeri, pilota della scuola di volo di Caravaggio, nel Bergamasco, e Tiziana Tozzo, 45 anni, operaia in un'azienda alimentare, madre di un ragazzo di 14 anni e da tempo separata dal marito, sono le vittime di questa drammatica vicenda. Il padre di Tiziana, rimasto vedovo qualche anno fa, vive a Canalo, nel cuore della Locride. Siamo tutti sconvolti, dice. Tiziana era una di noi e si era trasferita a Cantù per lavoro. Questo è quanto dichiarato dal sindaco Olarosa, che ha visto il padre della donna ieri mattina. Dopo gli accertamenti di rito, la salma di Tiziana verrà seppellita nel cimitero di Canalo. Al momento, gli inquirenti stanno cercando di comprendere le cause che hanno portato l'auto a finire in acqua, senza escludere alcune ipotesi. Tuttavia, fonti qualificate smentiscono voci circolate riguardo a un presunto litigio tra le vittime prima dell'accaduto. Per fare chiarezza, l'auto è stata sequestrata e le salme sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.